ciao amici dopo gli animalozzi the jumping pasta io sono un amante della pasta e della pizza e ragazzi a me la pasta piace tutti i giorni con 100 miliardi di sudi si prende si butta dentro e si fanno veramente dei capolavori qui siamo su trofei stupidanti e la rubrica dei platini easy easy partiamo immediatamente premiamo x a qui è un po a qui c'è un animazione pazzesca ragazzi it's pasta time primo trofeo bronzo qui c'è un audio pazzesco testi testi sentite l'inglese incredibile credo che riuscite a vedere i trofei adesso sono riuscito a mettere i mega trofeozi in vista more tasty grande 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 inglese drums succede di tutto quando faccio questi video anche agli aerei super tasty allora siamo ancora ai trofei bronzix ah vediamo un attimo questa è un'altra azienda dalla solita che fa mega toasty tasty tasty grande inglese aprirò prima o poi una rubrica di inglese by marco drums games oh amazing tasty 152 piatti di pasta piatti di pasta 175 piatti di pasta argento super mega testi grande the drums 200 super mega amazing tasty wow raga anche il nome dei trofeozi fa paura allora non c'è tanto da ridere ma oh more super mega amazing tasty a me a me fa ridere ragazzi questa cosa perché veramente come si può vendere e vendono un botto spaghetto in singular for spaghetti è vero questa ragione uno spaghetto gli spaghetti te che rasù te che rasù pasta italian pasta allora 176 al dente pasta temps better ah al dente non è tradotto eh fico è al dente in the world come pizza anche pasta allora puntini puntini and keeps your full longer e siamo a oro raghi stiamo arrivando al platino qualcosa mi dice di sì there are over 350 shape of pasta e quello è vero 350 tipi di pasta credo che sia la traduzione press or hold x bottom questa è un'altra azienda dall'altra the average italian has 60 pounds of pasta per year è vero è vero hai ragione anche di più io sto facendo la dieta ma la pasta non deve mai mancare carboidrati a palla while american had just 26 pounds a year incredibile incredibile marco drums speak english 400 pasta come from the world pasta 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 trofei stupidanti ragazzi allora andiamo con il 430 most popular shapes are? eh eh allora 450 vediamo se prendiamo spaghetti macaroni and pene io li mangio tutti ragazzi tutti i tipi e anche le farfalle e anche qualsiasi tipo allora US first pasta factory was built in brooklyn bella brooklyn dove fanno le chicche 490 chicche vediamo se abbiamo october 25 is world pasta day guardate che non lo sapevo che il 25 ottobre è il giorno internazionale della pasta e now i'm hungry ragazzi mi ha fatto venire una fame questo gioco di pasta che non so se ne comprerò altri del genere allora con 1 euro 49 vi fate un bel trofeozzo un bel platinozzo in maniere easy easy anche se questa è un'altra azienda dalla solita quindi ok exit the jumping pasta trofei stupidanti mi raccomando di seguire marco drowns games channel su youtube facebook twitter instagram tiktok twitch lascio tutti i link in descrizione ragazzi mi raccomando di iscrivervi anche qui su youtube e oltre questa rubrica divertente e simpatica la faccio perché mi piace e mi diverte ci sono anche video seri rubriche serie retro gaming le rubriche di corsa giochi tutorial unboxing un sacco un sacco di cose che porto sul mio canale e mi sa che prima o poi mi deciderò di fare the mark drum speak english ciao amici alla prossima lascio tutto in descrizione del video sotto nella descrizione tutti i link dove iscrivervi alle miei social ciao amici alla prossima ciao 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 ciao